Allora, Donne al Centro. Donne al Centro non vuole che essere il primo evento realizzato dal gruppo del Fonderizing del Centro Calabresi di Solidarietà. Amiamo definirci all'anno zero, anno zero come primo anno di attività che si propone di coordinare una serie di raccoltafondi a sostegno di tutte quelle che sono comunque le necessità e i bisogni del Centro Calabrese. Amo definire che siamo oggi il risultato di una lunga storia, una storia che nasce tanti anni addietro come centro di recupero dalle tossicodipendenze, ma che oggi non è altro che una storia che si apre a tutto il mondo delle fragilità, dei bisogni, dei disagi. Mondorosa è il nostro centro antiviolenza e casa rifugio e questo è l'obiettivo, quello di sostenere Mondorosa in occasione del decennale di attività. Donnera Centro sarà una serata realizzata presso il Cinemateatro Comunale di Catanzaro, sostenuta inizialmente da quelli che sono i nostri sponsor, proprio il Comunale, McDonald's, Frigor, Nitus Salubris, Integra, Globofis. Ma sono solo i primi sostenitori perché ciò che noi ci auguriamo è che la città risponda a questo nostro appello. Il Centro Calabresi di Solidarietà non ha mai chiuso le porte, è una casa che accoglie tutti coloro che sono disposti a darci una mano d'aiuto, ragion per cui anche il gruppo del fundraising non è che un gruppo misto, io sono un consulente, ma nel gruppo fundraising del Centro Calabrese ci sono amici, volontari, dipendenti perché tutto questo rappresenta il bisogno che abbiamo di una mano da parte di tutti. E quindi è questo l'appello che lanciamo alla nostra città, che voglia che possa essere comunque e che possa sentirsi soprattutto una comunità, vale a dire un insieme di persone atte, pronte, vogliose e desiderose di dare un contributo. E dunque vi aspettiamo, vi aspettiamo tutti giorno 4 alle ore 20. Perché alle ore 20? Perché comunque nel pomeriggio alle ore 17.30 ci sarà la partita del Canzaro. Noi non vogliamo che nessuno si senta escluso da quella che è una manifestazione importante per noi, ma importante per la città, ragion per cui alle ore 20 per dare la possibilità a tutti coloro che desiderano starci accanto e di poterci essere. Aiutateci ad aiutare, questo è il nostro motto. Aiutateci ad aiutare, non in una singola situazione. Ciò che noi ci auspichiamo, ciò che noi desideriamo è che in tanti si sentano pronti a darci degli stimoli, a proporci delle situazioni, a proporci dei suggerimenti. Perché nella lunga storia del Centro Calabresi di Solidarietà non abbiamo imparato che a crescere sia insieme, attraverso il confronto, il contributo e un'apertura del cuore da parte di tutti. E allora, Donne al Centro è uno spettacolo in cui i protagonisti saranno le donne, ovviamente, ma raccontate dagli occhi degli uomini. Abbiamo fatto questa scelta per raccontare delle storie importanti, emozionanti. Alcune allegre, altre chiaramente meno, ma lo vogliamo fare attraverso gli occhi degli uomini, perché dobbiamo essere tutti quanti molto più attenti, molto più sensibili verso questo dramma, che è il femminicidio. E Mondo Rosa, nei suoi dieci anni, chiaramente festeggerà questo evento attraverso gli occhi degli uomini. Ne abbiamo scelto cinque ragazzi che racconteranno cinque storie di donne e le interpreteranno da donne. Quindi sarà una cosa molto particolare, molto anche originale in qualche modo. Ed è stato interessantissimo vedere le emozioni degli uomini mentre leggevano questi brani, mentre li interpretavano e quando li interpreteranno. Speriamo che anche il pubblico sia... La Donne al Centro vuole essere un grande messaggio per tutta la città. Nasce un nuovo settore all'interno del Centro Calabrese di Solidarietà, che è il settore del fundraising, della raccolta fondi, che ha visto protagonisti già l'anno scorso sei figure tra interni ed esterni, tra volontari e personale dipendente, lavorare in questo ambito. La necessità di sostenere Mondorosa nasce dal fatto che Mondorosa compie i suoi primi dieci anni di attività. È un percorso sempre in crescita. Noi abbiamo un centro antiviolenza e una casa rifugio, dove ospitiamo donne e bimbi vittime di violenza. In questa giornata avremo l'onore di avere con noi Bandaferro, che è la madrina di Mondorosa, quindi l'inaugurazione di Mondorosa nasce con Vanda. Quindi questa presenza costante per noi è importantissima, averla vicino anche in questa occasione. Cos'altro? Cosa c'è da aggiungere? Allora, ecco, noi abbiamo questa grande partecipazione, e c'è un gruppo musicale che ci sosterrà quella sera insieme ai ragazzi, che è il gruppo musicale Leibu. E niente, quindi vogliamo che tutti sappiano che le porte del Teatro Comunale sono aperte e vi attendiamo numerosissimi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.